Se lo sport insegna il concetto di squadra, stavolta è riuscito anche a fare da esempio per abbattere i campanili e fare gruppo. È il caso dell'idea lanciata dal sindaco di Firenze e Dario Nardella per fare asse con Bologna nell'obiettivo di ospitare in Italia le Olimpiadi del 2032. Quella che era un'idea sta diventando però giorno dopo giorno impegno concreto, né a testimonianze il ricco parterre di ospiti all'incontro promosso a Firenze dalla nazione e che ha messo insieme gli amministratori comunali delle due città coinvolte, i governatori di Toscana e di Emilia Romagna, insieme a loro anche le voci di Romano Prodi e Pier Ferdinando Casini. Nardella ha ricordato che quelle realizzate a Firenze e Bologna potrebbero essere le prime Olimpiadi sostenibili della storia, mentre Enrico Rossi si è soffermato sul tema delle infrastrutture. Fare presto e bene, ha detto il presidente della regione toscana, abbiamo un ritardo in termini infrastrutturali anche rispetto all'Emilia che deve essere rapidamente colmato. Eugenio Gianni, presidente dell'Assemblea Toscana, ha invece richiamato l'attenzione su un immediato coinvolgimento del CONI, di cui si farà immediatamente carico con un appello al Consiglio Nazionale come membro delegato provinciale di Firenze. Il presidente del Consiglio regionale immagina un'ulimpiade diffusa, dalle gare di vela all'argentare fino a una gara di ercieri sotto le mura di Lucca ancora. Un match rilancia ancora Gianni nel nuovo stadio a Castello che potrebbe esserci a Firenze, dice Gianni, nel momento in cui si avesse questa candidatura olimpica per Firenze e Bologna. Infine l'ex presidente del Consiglio romano Prodi ha posto l'accento anche sui problemi. Le olimpiadi hanno portato dei deficit impressionanti un po' ovunque siano state fatte, a parte Atlanta e Los Angeles, ha detto Prodi, per cui i giochi nel 2032 in Italia dovrebbero essere ampiamente diffusi sul territorio nazionale per rendere anche i costi sostenibili e senza prevedere nuove ipercostruzioni. Firenze e Bologna facciano olimpiadi italiane, ha chiusato l'ex premier allargando il progetto a tutto il paese per avere dietro l'Italia tutta. Questa può essere la sfida vincente. In tante non è poco, paiono tutti avere un obiettivo comune da raggiungere. Adesso la sfida è rendere concreto il sogno.